cari amici di Vox Italia TV benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento come saprete in Francia si respira un clima di grande tensione abbiamo invitato con noi oggi un illustre ospite forse il principale conoscitore di cose francesi l'italiano che più sa di Francia Alberto Toscano grazie per essere tornato con noi grazie a voi di avermi invitato che cosa succede lì dopo i fatti di inizia si ha l'impressione che la Francia sia un paese sull'orlo di una crisi isterica isterica non lo so tra l'altro questo è un paese che a cose isteriche è piuttosto abituato quindi il problema non è tanto l'isteria e la tristezza è un paese sull'orlo di una crisi depressiva questo sì nel senso che io questa mattina ho sfidato un po' per ragioni professionali con un'autorizzazione professionale di giornalista il lockdown e ho fatto un lungo giro per Parigi e l'atmosfera è veramente triste intanto tanti tanti negozi chiusi ma non chiusi per il lockdown chiusi perché la crisi li ha spinti a mettere la chiave sulla porta e c'è affittasi negozio vendesi negozi eccetera eccetera un po' dappertutto nel centro di Parigi e naturalmente anche e a maggior ragione in aree periferiche quindi c'è questo aspetto economico c'è soprattutto l'aspetto psicologico ovviamente poca gente in giro e esercizi qualche esercizio pubblico ancora aperto ma nessuno nessuno ovviamente negli autobus perché c'è il lockdown e le trasmissioni televisive i dibatti i talk show riflettono tutto tutti questo cocktail drammatico di epidemia da un lato e terrorismo dall'altro quindi due paure che si incrociano e si addizionano tra di loro quindi l'opinione pubblica davanti a questo non è un'opinione pubblica oggi arrabbiata c'è stata oggi qualche piccola sparuta manifestazione di protesta anti lockdown però non è questo a fare notizia quello che fa notizia è al contrario il fatto che la gente sia in silenzio sia rassegnata sia triste e questa duplice crisi terrorismo più lockdown ovviamente prima o poi finirà e per riprendere la società francese l'economia francese ma anche l'economia di altri paesi anche la società di altri paesi hanno bisogno un terribile bisogno di ottimismo c'è un terribile bisogno di scommettere sul futuro ecco oggi la francia è più in difficoltà nello scommettere sul futuro di quanto non lo fosse in primavera anche se il lockdown di primavera era più duro però la si riteneva che la cosa sarebbe passata nel giro di qualche mese e che poi il sole tra virgolette sarebbe tornato a risplendere adesso davvero la gente si chiede quando finirà c'è stata una seconda ondata chi ci dice che non ce ne sarà una terza si parla di vaccino quando il vaccino verrà si parla di misure di sicurezza contro il terrorismo però di attentati negli ultimi giorni nelle ultime settimane ne abbiamo visti due di una brutalità di una gravità terribili e questo insieme che è l'elemento il brodo di cultura della attuale situazione psicologica dei francesi in generale dei parigini in particolare ma che cosa succede in particolare dal punto di vista della recrudescenza del terrorismo islamico perché proprio adesso perché due casi così drammatici a distanza di poco tempo quello del professor patì che è stato decapitato qualche giorno fa e adesso questo assalto alle chiese ma c'è un simbolismo anche dietro questi eventi c'è un messaggio più nascosto che l'occhio acuto può cogliere o è solo diciamo la violenza pura di un fenomeno che non è stato mai per davvero integrato dunque l'islam è la seconda religione di francia ci sono non si sa esattamente ma milioni 5 6 milioni di islamici in francia per lo più sono integrati e condividono con il resto della popolazione francese la stessa gli stessi problemi e gli stessi valori e il problema è che l'islam francese e non solo quello francese sono profondamente divisi al loro interno noi abbiamo talvolta difficoltà a cogliere tutta tutto il peso di questa frattura che c'è nel mondo islamico nel mondo islamico in generale la vediamo tra sauditi e iraniani si fanno la guerra tra paesi islamici la siria paese islamico è stato teatro di una delle più terribili guerre degli ultimi decenni l'algeria negli anni 90 ha visto centinaia di miliardi morti in una terribile guerra civile e da un lato e dall'altro c'erano islamici talvolta come tra iraniani e sauditi sono divisi da aspetti religiosi una diversa interpretazione dell'islam talvolta sono divisi come nel caso dell'esperienza algerina di una diversa interpretazione del modo del rapporto tra la religione e la politica ora noi nel all'interno delle comunità islamiche europee e in particolare in questo caso della comunità islamica francese avendo troppo spesso una ottica che parte dall'esterno abbiamo difficoltà a cogliere la gravità di questa frattura oggi in francia ci sono moschee che predicano la guerra santa la violenza l'intolleranza e altre invece che sono perfettamente in linea e aderiscono ai valori della repubblica francese i valori democratici dei nostri paesi quello che è accaduto negli ultimi anni è stato un boom dell'iniziativa violenta da parte di un'ala che per brevità per comodità si definisce talvolta islamista della comunità islam un'ala minoritaria della comunità islamica francese e la domanda che tu mi hai fatto è più circostanziata e adesso fatta questa lunga premessa io tento di rispondere perché proprio oggi la risposta più immediata più e più più scontata è che all'inizio di settembre è cominciato a parigi il processo per i complici degli attentati del 2015 gli attentati Charlie Hebdo Bataclade in particolare gli attentati Charlie Hebdo i protagonisti immediati di quelle stragi sono morti in scontri con la polizia allora però i loro complici sono vivi e vegeti e devono rispondere di ciò davanti alla legge questo processo è stato l'occasione per riprendere alcune tematiche che allora furono d'attualità e in particolare l'occasione per il settimanale Charlie Hebdo di ripubblicare le vignette satiriche su maometto che furono allora al centro di tante polemiche di tante reazioni violente quelle vignette intanto c'è dal punto di vista degli islamici il divieto di raffigurare il profeta momento questo divieto diventa ancora più drastico qualora evidentemente la raffigurazione sia una raffigurazione satirica come quella che è stata allora presentata sulle pagine di Charlie Hebdo e oggi ripresentata questo ha rilanciato rifocolato è stata l'opportunità per chi già già è e protagonista di una predicazione violenta all'interno delle frange estremiste della comunità islamica è stata l'opportunità per rilanciare la propria offensiva che ha avuto questi due momenti tragici lo sgozzamento del professor samuel patty nella in una località peraltro relativamente tranquilla della regione parigina con franza tonorin la città di cui era stato tra l'altro sindaco per tanti anni il defunto primo ministro michel rocard e adesso l'attentato alla chiesa di inizia più altri tentativi di atti violenti in altre località e altre chiese della francia stessa questa reazione impone alla francia e non solo alla francia una scelta la scelta e dobbiamo noi rinunciare a per esempio accettare sulla stampa scelte oggettivamente di provocazione ma anche la provocazione è libera che si sappia in un paese democratico come la raffigurazione del profeta maometto o dobbiamo accettare la sfida invece che viene portata alle istituzioni democratiche da chi quelle istituzioni non vuole rispettare all'interno di tutto questo c'è dal punto di vista italiano un altro elemento che io lascio alla vostra riflessione questo elemento è la francia è un paese che fa della laicità un elemento fondamentale della propria fisionomia del proprio identikit istituzionale la costituzione francese parla della laicità tra i grandi principi delle istituzioni francesi noi in italia in italia su questo siamo in una situazione un po particolare io ho sentito leader politici italiani per esempio giorgia meloni per non fare nomi dire il comportamento degli estremisti islamici francesi offende la laicità è vero però in francia in italia questo elemento è diverso perché in francia laicità e laicità verso tutte le religioni e profonda separazione dello stato da tutte da tutti i simboli religiosi cosa che la chiesa cattolica francese accetta di buon grado in italia comunque un paese in cui c'è un simbolo religioso con tutto il rispetto per questo simbolo è il problema non è questo ma c'è un simbolo religioso come il crocefisso negli ospedali nelle scuole nei tribunali ora il percorso che porta ad affermare il sacrosanto principio della laicità in francia e in italia è un percorso che ha delle differenze e che secondo me senza nessuna polemica dovrebbe spingere gli intellettuali l'opinione pubblica italiana interrogarsi su come forse in in italia senza ripeto polemiche senza lotte civili tra italiani in modo che veda la stessa chiesa cattolica come protagonista di questa riflessione sarebbe forse opportuno ripeto interrogarsi sulla presenza oggi nel ventunesimo secolo di simboli religiosi in un paese che si dice a sua volta l'italia è il caso dell'italia laico c'è una contraddizione nella laicità italiana e nel momento in cui noi in modo diverso dal passato abbracciamo l'idea della laicità per chiedere agli islamici di aderire a questo principio di laicità e per impedire agli estremisti islamici di utilizzare la religione contro la democrazia dobbiamo a nostra volta secondo me interrogarci in italia sugli orizzonti le prospettive e la storia stessa dell'idea di laicità bene mentre sentivo questa analisi molto precisa molto puntuale riguardo al perché è tornata adesso questa violenza improvvisa legato all'apertura di questo processo che coinvolge i complici degli assassini islamici che reagirono di fronte alle vignette pubblicate dal settimanale satirico charlie bedo vignette che sono obiettivamente spesso molto forti al limite anche alcune obiettivamente di cattivo gusto però nel nome diciamo della libertà di espressione e di opinione un paese laico che ha fatto come diceva bene toscano della laicità un punto fermo del proprio modo di essere e di vivere insieme non può fare finta di nulla però in un periodo nel quale aumenta obiettivamente il desiderio di censura in cui si diffonde in maniera sempre più strisciante la voglia di costruire nuovi ministeri della verità dove le cose dette vengono validate da ministeri più o meno rappresentativi dove c'è chi pretende insomma di imporre per legge cosa può passare sui medi e cosa no è possibile che notare diciamo un cortocircuito nel sistema c'è da una parte dire la libertà si difende comunque anche a costo di scadere nell'essere blasfemo insomma in maniera insomma più 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 evidente dall'altra però bisogna limitare e censurare mettere diciamo un bavaglio a quelli che magari criticano le le opinioni prevalenti su temi come ad esempio la il problema sanitario coronavirus c'è non c'è un cortocircuito in tutto questo da una parte una libertà che non conosce confini e dall'altro il pericolo perfino di uscire di pochi centimetri dal perimetro di ciò che è stabilito dagli scienziati di apparato diciamo guarda secondo me il punto fondamentale di questo discorso è nella maturità dell'opinione pubblica l'opinione pubblica deve accettare la propria responsabilità è troppo comodo anche per l'opinione pubblica delegare ai media delegare alle istituzioni il ruolo di pensare giustamente si pone un problema di margine della libertà la libertà di espressione vale anche quando non siamo d'accordo che libertà è se si può dire quello su cui noi stessi siamo d'accordo il difficile è accettare che venga detto ciò su cui noi non siamo d'accordo allora le frontiere rispetto all'idea di libertà di opinione sono quelle che ben conosciamo da un lato io ho libertà di esprimermi tranne il limite è quello quando la mia espressione nuovo c'è un attimo un problema di collegamento ecco richiedo alla regia di capire per quale motivo si è interrotto improvvisamente il collegamento con parigi ecco se fortunatamente siamo riusciti a recuperarlo per un attimo non sentivamo più ora è tornato il collegamento stavi dicendo qual è il limite che ognuno di noi deve rispettare il limite e la violazione della libertà altrui del diritto altrui e 6 e per esempio la vita privata è un limite oggettivo ho diritto di essere me stesso nella mia vita privata e questo è un limite per te nel parlare di me cioè tu dici alberto toscano dice delle stupidaggini tu hai sacrosanto diritto di dirlo per il resto per quello che riguarda la vita privata mia o tua abbiamo il diritto di mantenerla di mantenere su questo una riservatezza questo è un esempio di limite un altro esempio di limite è il pericolo il pericolo per la società se rispetto al dibattito adesso sul terrorismo islamista in francia si pone l'elemento di stabilire il limite quando alcuni fanno per esempio nel caso di samuel patty il professore sgozzato alcuni avevano indicato il suo nome per suscitare contro di lui una campagna di odio che poi ha portato alla sua morte ecco questo limite evidentemente c'è un limite di sicurezza di protezione della sicurezza e la libertà di informazione non può andare all'incitamento all'omicidio comunque alla violenza ci sono dei limiti che sono oggettivi perché prima dicevo che noi abbiamo troppo spesso l'abitudine di riflettere peraltro giustamente sulla libertà di informazione a proposito dei limiti da stabilire o da non stabilire a questa stessa libertà è troppo poco l'abitudine di riflettere sulla società sull'opinione pubblica e sulle sue responsabilità io penso a proposito di questo secondo elemento che le nostre opinioni pubbliche si siano talmente abituate alla democrazia che sono in difficoltà quando si tratta di viverla e in qualche modo di vivificarla le nostre opinioni pubbliche hanno voglia di sentire verità rivelate e poca voglia sono pigra quando si tratta di sentire più di una campana e di stabilire la propria di farsi un'opinione farsi un'opinione faticoso noi abbiamo bisogno di ridare una dimensione dinamica alla nostra democrazia questa dimensione dinamica passa per sentire più voci per questo è giustissimo fare spazio a tutte le voci che fatto salvo il limite che dicevo prima di incitamento alla violenza o di violazione della vita privata eccetera fatti salvi quei limiti la nostra opinione pubblica ha bisogno di sentire tante voci anche eterodosse eterogene tra loro le più diverse e magari anche le più stupide magari anche le più consulte magari anche le più provocatrici come quella di shahri abdu perché a quel punto le nostre opinioni pubbliche saranno più mature si faranno più opinioni e quelle opinioni non saranno frutto di una sensazione prodotta magari dalla demagogia ma saranno frutto di una riflessione più profonda la nostra democrazia passa per una relazione più solida tra opinione pubblica e informazioni l'informazione ha perso qualità negli ultimi anni negli ultimi decenni malgrado l'aumento dei veicoli dell'informazione stessa a seguito della presenza di internet l'informazione ha bisogno di ritrovare qualità e quel ritrovare la qualità quel cammino che non è un cammino facile ha bisogno a sua volta di una più cosciente responsabilizzazione delle opinioni pubbliche che sia le opinioni pubbliche italiane francese tedesca o quella che volete bene chiudiamo questa bella intervista accendendo una focus sull'operato di macron macron è stato alle prese per un lungo periodo con le proteste dei cosiddetti gile gialli che ora sembrano terminate adesso deve affrontare un po come tutti il problema pandemico sentivamo prima che anche lì insomma c'è un lockdown in corso e adesso come ultima tegola è caduta addosso il ritorno della violenza di matrice islamica qual è il rapporto oggi fra il presidente e i francesi è un personaggio che ormai insomma va sul viale del tramonto macron oppure conserva ancora il suo appello e una sua forza beh macron è 41 anni quindi se si è sul viale del tramonto a 41 anni di abbaluccio non è sul piano biologico penso del sul piano politico ma come sul viale del tramonto il problema il problema è che la vera forza di macron che magari io dico probabilmente gli consentirà di essere rieletto per altri cinque anni nel 2022 quella vera forza sta nella debolezza altrui col sistema elettorale francese per le presidenziali se gli altri non si mettono d'accordo tra di loro e macron ha ottime chance di essere rieletto naturalmente non si può fare alcuna profezia ma le chance ci sono ci sono proprio perché per esempio all'interno della sinistra tra sinistra radicale e sinistra socialista e verdi poi c'è c'è una gran difficoltà a presentare un candidato comune alle presidenziali all'interno c'è poi l'estrema destra di marine le pen che è isolata ma molto forte nel paese nell'elettorato e c'è la destra dei repubblicani la destra come dire liberale che a sua volta è divisa tra chi è passato con macron e chi è contro macron quindi le divisioni altrui sono la vera forza di macron molto più del della sua stessa proposta politica e questa situazione crea anche dell'insoddisfazione nell'opinione pubblica perché quando si sceglie contro la scelta di macron se ci sarà di nuovo nel 2022 sarà contro più che per contro marine le pen contro l'estrema sinistra contro gli uni sarà più piuttosto che un'adesione vera e propria al programma di macron sarà un rifiuto di altri personaggi e di altri programmi soprattutto di altri personaggi come melanchon all'estrema sinistra e marine le penne all'estrema destra e questo fatto lascerà nel caso di una rielezione di macron forse nell'opinione pubblica un senso di amarezza perché quando hai scelto contro e non per allora certo qualcuno ha vinto quelli con cui a cui eri contro magari non sono eletti però quello che tu ti trovi come presidente non è una persona a cui tu veramente aderisci e in cui hai veramente fiducia quindi c'è il rischio poi di un senso di frustrazione nella società francese però ripeto e per tornare all'inizio di questa nostra conversazione quello che prevale oggi non è più come è stato all'epoca dei gile gialli o delle proteste contro alcune riforme la frustrazione politica oggi quello che prevale nelle venature della società francese è un senso di tristezza che diventerebbe tanto più grave se sfociasse nella rassegnazione lo scontro macron erdogan è tattica o destinato a durare e magari anche a peggiorare in futuro lo scontro franco turco a due elementi un elemento e geopolitico ci sono alcune partite che si stanno giocando nel mediterraneo una è la parte due soprattutto una la partita per l'avvenire della libia e l'altra la partita e questo è il nodo in questo momento più 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 delicato per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi sottomarini al largo di cipro e di altre zone del mediterraneo orientale la francia giustamente a mio avviso a mio avviso sostiene il governo di cipro e il governo greco la turchia ha mandato navi militari per impedire alcune perforazioni di idrocarburi alla ricerca di idrocarburi e per affermare la propria presenza in qualche modo per partecipare alla divisione dato torta tenendo conto che cosa illegale cipro e di l'isola di cipro divisa in due a seguito dell'invasione turca del 1974 del luglio 74 quindi ci sono questi elementi di potere geopolitici nel mediterraneo a cui si aggiunge se vogliamo andare al di là del mediterraneo il contrasto per il nagorno karabakh tra la francia che sostiene la armenia e la turchia che sostiene l'azerbaggiano poi c'è c'è il comportamento l'atteggiamento la logica autoritaria populista secondo me profondamente pericolosa del presidente erdogan che in turchia impone un sistema autoritario che usa la religione islamica come cemento del suo sistema autoritario e che tra l'altro in questo modo rafforzando l'autoritarismo e sfidando sistematicamente i paesi dell'unione europea non si vede come possa continuare quel vecchio e sterile dialogo euro turco per l'adesione ipotetica della turchia all'unione europea che ogni giorno che passa perde di consistenza e di significato quindi gli elementi della polemica franco turca sono quelli che dicevo prima da un lato alcune questioni geopolitiche dell'altro l'atteggiamento del di erdogan rischia usa certi contrasti anche internazionali per rafforzare il suo sistema autoritario interno e poi siamo tutti ostaggi di questa di questa politica di intimidazione della parte di erdogan oggi tocca alla francia domani può toccare la germania dopo domani può toccare l'italia è necessario che l'europa nel suo insieme abbia un atteggiamento chiaro nei confronti delle attuali autorità turche grazie ad alberto toscano per essere stato con noi speriamo di riaverti i nostri microfoni per capire meglio quale sarà l'evoluzione di questa depressione francese speriamo che vengano fuori senza bisogno di rivolgersi ad uno psicologo immaginifico grazie ancora bene cari amici di vox italia tv si conclude qui un nostro nuovo approfondimento come sapete la francia è scossa da una serie di tensioni noi continueremo a tenere accesi i nostri riflettori per capire bene cosa accade in questo paese insomma così importante nel cuore dell'europa e che condiziona e non poco anche la vita politica italiana questo è il compito nostro il compito di vox italia tv fare luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra aiutateci a proseguire nel nostro lavoro donando gli indirizzi che la regia sta mandando a sopra in sovrimpressione se volete costituire con noi una comunità che cammina insieme nel tempo abbonatevi vedrete che riusciremo a costruire un punto di riferimento in rete non manipolabile non influenzabile a beneficio esclusivo di chi vuole riflettere ragionare e non diciamo assorbire criticamente ciò che viene detto da chi ha la potenza per parlare a tutti grazie alla prossima